Coach Radici, non abbiamo capito se eri il coach di Città di Castello o uno della Fossa? Ma è chiaro che certe partite coinvolgono, no? Quindi dopo 5-7 di battaglia sportiva abbiamo un po' tutti cercato la gioia, diciamo anche fisica, quell'attimo di sfogo che penso ci sta, racchiude un po' il senso della partita, che è una gara speciale, una gara molto sentita e quindi al di là del campionato questa è una partita che merita di essere giocata a sé. Può essere la chiave di volta per cambiare il volto questa stagione di Città di Castello? Direi che è una bellissima vittoria che insieme alle due precedenti fa tre e quindi ti posso dire che per fare il salto di qualità bisogna fare una serie di vittorie, non una. Certamente questa vittoria è un passaggio importante soprattutto perché è la vittoria del gruppo. Sappiamo tutti che questa settimana la squadra ha dovuto sopperire l'assenza di due stranieri, non è stato facile preparare questo evento, tuttavia è venuto un risultato importantissimo per merito sia degli stranieri che veramente ai quali va fatto un applauso particolare ma di tutto il gruppo che come io avevo detto in preparazione della gara sicuramente dal punto di vista tecnico sta facendo dei passi in avanti importanti. Noda e Letonen hanno dimostrato un attaccamento importante a questa maglia potevano evitare se volevano di giocarsela e invece hanno voluto esserci. No, ti dicevo, questi atleti hanno giocato quattro partite in una settimana, la quinta è quella di oggi per giunta al tiebreak, hanno viaggiato questa mattina, hanno volato, erano a migliaia di chilometri da Città di Castello solo stamattina, quindi hai sottolineato un aspetto giusto e importante. Sono due ragazzi che stanno diventando castellani quanto noi. Marco Visentin, una regia da Oscar. Ma siamo stati bravi tutti, siamo stati bravi tutti perché ci abbiamo creduto fino all'ultimo, abbiamo dato tutto e siamo stati soprattutto bravi dopo quel passaggio a vuoto del terzo set a non mollare perché loro ci hanno messo molto in difficoltà ma noi abbiamo risposto colpo su colpo e è stato davvero bello. C'è chi dice, e io non concordo, che con la palla tra le mani sei uno dei migliori tre. Io direi che sei uno dei migliori due. Beh grazie, i complimenti fanno piacere, io cerco di fare il meglio possibile, insomma se le cose vanno bene tanto meglio, insomma io cercherò sempre di impegnarmi al massimo e di fare sempre meglio. Può essere la chiave di volta di questa stagione? Ma è importante, soprattutto perché è arrivata una vittoria molto sofferta che ci darà sicuramente morale, è importante perché comunque stiamo trovando ancora di più meccanismi sia tecnici che tattici che è molto importante e quindi sì, credo sia una partita molto importante, sicuramente ce ne saranno altri in cui dovremo dimostrare di essere all'altezza ma è un buon, diciamo siamo sulla strada buona. Slobodan Kovac, coach della Sir Safeti Perugia, punto perso o punto guadagnato? Secondo me punto perso, secondo me punto perso perché abbiamo visto alla fine come loro hanno gioito questa vittoria che significa che hanno giocato contro la squadra più forte. Mi dispiace perché abbiamo giocato tutta la partita un buon pallavolo e non abbiamo approfittato alla fine a vincere. Bravi loro, complimenti ma è ancora lungo e noi siamo pronti a lottare punto per punto. Ti sei posto un obiettivo per questa stagione coach? Beh, fare, secondo me possiamo andare in alto, un po' come questi punti, abbiamo lasciato vittoria contro Castellana in casa dove abbiamo sempre vantaggio, tie break, abbiamo perso, dopo 2-0 contro Loretto abbiamo perso, ma l'importante è che i miei ragazzi vedano che hanno qualità di lottare in alto. Cos'è alto? Tutto è possibile, il campionato è molto lungo, vogliamo arrivare fra primi tre, fra primi quattro perché è sempre bello giocare play-off, giocare coppa. Abbiamo qualità di fare questo, peccato oggi abbiamo perso, altra squadra, diciamo, Città di Castello con questo pubblico ha qualcosa in più oggi e niente, complimenti loro, complimenti a miei ragazzi. Tu hai tra le mani un mix importante tra giovani e meno giovani. Oggi sono mancati meno giovani? Sì, forse qualcosa si è mancato e ha mancato forse qualche contrattacco alla fine. Cosa posso dire? Hanno fatto uno ultimo muro e non uno contro uno. Palla in due abbiamo rigiocato un po' male e si è mancato qualcuno. Quando si perde manchiamo tutti. Solo questo, capito? A complimenti al pubblico perché, anche se non è buono per le squadre avversarie, dà una grossa mano alla squadra di casa e noi abbiamo sopportato bene questi insulti tutta la partita. Alla fine, peccato che non abbiamo vinto. La vogliamo chiudere così? È stata una bellissima giornata di sport. Sicuramente, sicuramente. specialmente in Umbria, due squadre di questo livello, penso che vogliamo avere tutti. Vedere tutti, se è possibile, in A1. Gino Sirci, patlon della Sir Safeti Perugia. Sembrava una partita di Serie A1? Beh, anche più. Ecco perché io dico sempre che mi diverto più a finire in A2 che in A1 perché queste partite sono testimonianza di grande, di quello che è la bellezza della A2. Il tifo, anche i palazzetti così stretti, così vicino. È stata una partita molto palpitante, peccato che l'abbiamo persa e il Castello che l'ha vinta, ma del resto alla fin fine perdere così al tie break 13-15, alla fin fine ci potrei anche stare. Potevo anche andare peggio, ecco, quel senso del poi. Sulla carta erano due squadre più o meno sullo stesso livello, probabilmente la differenza l'ha fatta il pubblico di Città di Castello. Eh sì, il pubblico, è chiaro, il pubblico così caldo, così vicino, è chiaro che si è condizionato. Le nostre battute non sono state quelle che diciamo normalmente erano e quindi poi anche forte la lucidità. Ah, ecco, però ecco, io al di là diciamo di quello che è il pubblico, il Castello come squadra ha giocato molto bene. Quindi devo dire grandi complimenti, voglio dire anche ai giocatori che erano ritornati dall'Europeo. Quindi ha giocato molto bene, sono rimasto abbastanza impressionato dalla forza, che il resto sapevamo di Città di Castello. Oggi l'abbiamo provata, ecco. La passata stagione, salvezza, che è passata dai play-out, per i play-out, quest'anno che obiettivo ti poni? Beh, mi pongo, no, di fare un bel campionato, di vivere queste partite così e di fare, ecco, di essere competitivo. Questa sera dicevo che anche perdere 3-2, 2-3, ci può anche stare la fine qui a Castello. Perché? Perché comunque abbiamo visto che la nostra squadra è competitiva. Il fatto, diciamo, di dare spettacolo, di non andare in depressione, ma di far vedere che abbiamo speso bene i nostri soldi, potrebbe essere già questa la soddisfazione, ecco. Il nostro campionato è quello, diciamo, di divertire e divertirci. Amaro Agustinelli, team manager della Gerardi SV, su Time Out hai scritto quello che provavi quando eri giocatore. Che cosa hai provato da dirigente? Ma più o meno sono le stesse sensazioni, con oggettivamente un distacco diverso rispetto a quello che poi accade in campo. Però il piacere di vivere queste partite credo che sia unico per tutti. Patrona Sirci ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, un punto guadagnato, ha detto avrei firmato per un punto a città di Castello. Sei soddisfatto? No, beh, io credo che Bastia abbia dimostrato quello che ha dimostrato fino adesso, ovvero sia di essere una squadra competitiva per il vertice. Io credo che ancora noi manchi qualcosa per poter arrivare a quello che ci aspettavamo all'inizio del campionato, ovvero un'attenzione maggiore soprattutto su alcuni fondamentali come per esempio il muro di posto 4. Questa sera su Tamburo abbiamo sofferto tantissimo. In battuta dobbiamo essere ancora più speculativi e se mi permettono i miei giocatori anche un pochino più intelligenti in alcuni momenti. Quanto c'è stato di Don Bruno Bartoccini nell'ultimo punto? Ah, guarda, Bruno è uno che ha costruito assieme ad altri pilastri questa società, quindi se ne va veramente questa volta senza retorica un pezzo della nostra storia, ma chi meglio di lui potrà dire che si è visto qualcosa di buono da lassù credo che non ci sia. Probabilmente si è seduto vicino ad Andrea Gioana a vedere la partita che era la loro partita. Sì, sinceramente incominciano ad essere troppi seduti lassù, ti dico la verità, però è forse giusto pensare così, è giusto pensare positivo e sperare che queste due persone ci accompagnino fino alla fine questa stagione. Mauro Alcherigi, DS della Gerardi Svi, parlavamo con Valdemaro, quanto c'è stato dell'ultimo punto della Gerardi di Don Bruno Bartoccini? C'è stato di Don Bruno, c'è stato di questo palazzetto fantastico, questa squadra ha saputo reagire a un terzo set dove ha preso un'ammazzata terribile, un 9 a 0 che ha girato il set e sono stati bravi a ritrovarsi e a chiudere questo set, una vittoria bellissima. Bellissima, spero che Bruno al cui oggi ho mandato i saluti, il ciao quotidiano del prima partita ci abbia aiutato. I ragazzi hanno dato tutto, erano stremati alla fine della partita, soprattutto Noda e Lettonen li devo ringraziare perché sono partiti questa notte alle 2 per rientrare in Italia e hanno dato veramente tutto. Complimenti a Rosalba e alla sua squadra e a Radici per come ci ha condotto. Credo che è una bella vittoria, una grande squadra, quella di Perugia, un tebre che l'avremmo voluto sognare ed è avvenuto così bene, molto bene. C'è qualcosa che potresti fare in più per agganciare magari i segreti? Perché è vero, sono avanti, però il campionato è livellato. Beh, noi dobbiamo camminare così, abbiamo avuto tre battute d'arresto in casa contro squadre come Segrate, Genova e Castellana. Adesso dobbiamo guardare il campionato che facciamo, questa è una gara, adesso ci riposiamo due giorni, siamo molto stanchi. Ricominciamo mercoledì e andiamo a preparare la gara di Sora. Io non guardo avanti, guardo la concretezza di una prestazione. In altre occasioni forse avremmo perso questa gara. Stasera la squadra non ha mollato come è successo in altre occasioni, credo che è il passaggio decisivo per poter fare un campionato importante.